9 positivi, scende prepotentemente la curva del contagio da coronavirus in Campania. Il risultato è ancora più importante visto il numero dei tamponi, ben 3568. Nelle ultime 24 ore un solo deceduto e 76 guariti, un dato incoraggiante anche in vista delle prossime riaperture commerciali a partire dal 18 maggio. Dal 4 maggio controlli serrati nei punti nevralgici del trasporto stradale, autostradale, ferroviario e aeroportuale per censire il ritorno in Campania di chi risiedeva fuori regione. In particolare ieri sono stati controllati 125 viaggiatori. Sono stati sottoposti a test rapido, 4 sono risultati positivi, 2 al casello autostradale di Grotta Minarda, 1 alla stazione di Aversa e 1 all'uscita di Caserta Sud. 5 persone sono state sottoposte invece a tampone, risultate poi tutte negative. Intanto prosegue la gestione degli assembramenti. Il sindaco di Pozzuoli, Figlio Lia, ha annunciato per questo fine settimana la chiusura del lungomare Pertini e del tratto di passeggiata che va da Vincenzo a mare fino ai piedi del rione Terra. Scenario sette giorni fa di pericolosi flussi di cittadini senza mascherine e troppo indisciplinati. Il mancato rispetto dell'ordinanza, fanno sapere dal municipio di Pozzuoli, comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa che andrà dai 400 ai 3.000 euro.